Un lavoro di tanti mesi distrutto dal vento. Una tromba d'aria, così la chiamano i responsabili del Ranch Margherita a Meleto, la fattoria didattica alle porte della frazione di Cavriglia. Sta alla scoperchiata abitazione degli animali a terra, così un appello a coloro che almeno una volta l'anno frequentano il Ranch. Dateci una mano per ricostruire il tutto. Chiedo alla comunità di Cavriglia, poiché abbiamo fatto tutto questo lavoro per la comunità, perché noi mettiamo a disposizione un luogo dove le persone possono venire a svagarsi, i bambini soprattutto, a conoscere gli animali, a fare picnic, insomma, secondo me è una risorsa del territorio. Quindi chiedo se qualcuno può contribuire ad aiutarci, ci farebbe immensamente piacere. Questo stallone qui bisognerà chiamare una ditta che se ne intende, insomma, un'impresa che sa fare queste cose. Anche qui danno in gente è facilmente evidenziabile fin dal mattino, anche se gli animali sono fortunatamente salvi. Ha scoperchiato diversi capanni, ha scoperchiato persino un pezzo di tetto della stalla, quella grande, che, voglio dire, era stato fatto, era forte, era il pezzo più forte del nostro Ranch, poi si parte anche quello. No, meno male, una cosa c'è da dire, gli animali, nessuno si è fatto male, perché io avevo paura di quello. Quando sono entrato, arrivato, ho visto il capanno dei ciuchini in terra, ho detto vai. Invece, meno male, erano tutti lì che brucavano, che girellavano, meno male. E il fatto è che non smette, che qui continua a volare via roba. Ora ora è partito un altro pezzo di tetto e siamo tutti e due attaccati lì al fienile, che non vada via, che non si scoperche. Il danno si può quantificare? Ma intanto, tanto, tanto lavoro, prima di tutto, perché noi si era fatto qui tutta opera d'arte, e ora rincresce anche vederlo in queste condizioni, perché si era montato ora il telone con tutti i calessi, le carrozze, era venuto un gioiellino, quindi più che tanto lavoro, i soldi, che ne so, anche qui saranno 3.000 euro. Chiunque vuol dare una mano fattiva può recarsi direttamente a Ranch Margherita, alle porte di Meleto.